Salve, e sono Federico Feglini. Direi tu, questo nuovo siamo a scuola. Abbiamo pure la nascolta. Collabora con noi. Datemi un parere su questa novella, del giovane Federico. Sì, ma questa fa ridere. Signore e signori, è il momento della macchietta. Con questo pezzo in particolare l'ho scritto io. Dice, ora si è andato al cinema. Avevo una certa attrazione, fin da ragazzetto, verso certi personaggi che venivano considerati stravaganti, cioè gli artisti. Marcelli, devo dire una cosa al signor Scola. Scusi, ma perché nei suoi film fa mio figlio così brutto? Feglini lo fa bellissimo. Come li chiamate? Lui Federico, io Ettore. Lavoriamo nel cinema.